Perché già mi sono messo a seguire il vento, ero in una fase molto confusionale, per cui non capivo il perché mi succedevano tante cose, ma perché io mi sono sempre chiesto, come tutti ci chiediamo il perché, tutti crediamo al Padre Onnipotente, che il Padre Eterno è Madre Eterna, non hanno mai aggiunto la Madre Eterna, che poi è prima madre, avete visto che l'ho scritto io, e chi vuole che l'abbia scritto? Sì, una cosa che mi mette a girare il mondo a scrivere quello, espandete la voce, ma non solo Gesù, mi sono sentito Gesù in certe circostanze. Lei cosa pensa del rapporto tra natura, amore e Dio? È un unico rapporto, è nato così il rapporto, nei secoli che furono, il primo giorno, il Bing Bang, e il Bing Bang, cosa intendono col Bing Bang? È il massimo, siamo in contatto col Padre Eterno, e Madre Eterno, sto Padre Eterno io lo devo mettere secondo, perché siamo secondi, noi maschi siamo dietro le donne, sono le donne, sono le donne che devono comandare, che hanno inizialmente la prima donna sulla terra, è arrivata donna, è arrivata donna, e dopo si è trovato l'uomo, adesso come il Padre Eterno lo sa, però noi dobbiamo chiederci sempre domande, adesso io ho scoperto il vento, che col vento ho tutti i miei pensieri trasformati in domande, e il vento mi ha dato la risposta, un'ultima domanda, al 99% ce l'ho la risposta, signor Giuseppe, un'ultima domanda, che cosa consiglierebbe ai ragazzi della nostra età? Tanto entusiasmo, tanta lealtà, essere, essere, non mai invidia uno con l'altro, sempre, collaborazione, collaborazione per fratellanza, come è la chiesa di sciacrazione? No, no, non fai niente, la tagliamo, ma fratellanza, ma no, non seguite, della chiesa ci sarà il 10-20% di vero, la storia è scritta, il testamento quello è vero, ecco perché io do il 90% falso, e solo il testamento è valido, altre scritture che non si trovano più, non è che c'è uomo, non esistono più quegli uomini lì, se ne sono andati, ma esiste solo madre e padre eterno, eterno, e noi purtroppo dovremmo essere eterni in questa terra, ma ci arriveranno i futuri bambini, quale generazione non lo so ancora, ma io penso che ci arriviamo presto. Ultima domanda, il rapporto con l'amore e con le donne. L'amore è grande, è la parola principale, è la parola della madre, amore, 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 sempre amore, i bambini, appena lo chiami amore, ma anche gli animali, chiamali amore, vedi subito che ti danno retta, questa parola è importantissima, è importantissima questa parola, ma non è l'amore nel sentimento, ma parlare, chiamare amore, io non conosco te, ti posso anche chiamare amore, tu dici, eh quello è gay, è un momento, è un momento, vabbè adesso soprattutto ai bambini, ai bambini è importantissimo, ma me ne sono accorto io, ma già da qualche, l'anno scorso, da un anno a questa parte che ho risolto, ma l'anno scorso era ancora la ricerca di Eva, perché mi sono sentito ad ammo, prima Gesù, poi non mi sono fermato a Gesù, dico Gesù incrocia a me, perché? Perché mi sono, avevo dei postumi fisici che dico, ma io incrocio piedi così, quando, quando si è in branca a dormire, dico ma non, non che davvero sono stato inchiotato così, alla croce, cioè mi sono immedesimato, è chiaro, c'è la mia definizione, ma poi è arrivata la definizione, mandi un saluto a tutti i ragazzi di Le Gambiente, un saluto ai ragazzi di Le Gambiente, perché stanno, stanno, no no poi, ah lì, ma io vi voglio vedere entro stasera, ma noi quelli sono partiti già gli altri, no ragazzo mio, io mi metto in sospetto tu magari, voi sei camorrista, e io mi metto in sospetto, Grazie a tutti.